Che assurde e ridicole marionette, siamo sgambettanti su un volgare palcoscenico, ci diverte soltanto ballare, scopare, senza pensieri, ignorando quello che siamo, niente. Non per questo siamo stati creati. Non aspetta, qui c'è di più. Oggi stavo sulla metro e un tipo mi ha coinvolto in una conversazione. Niente di impegnativo alla classica persona sola che ti parla del tempo. Ho cercato di essere simpatico e accomodante, ma mi faceva male la testa per la sua banalità. Non so neppure come sia accaduto esattamente, ma all'improvviso gli ho vomitato addosso. Non gli ha fatto piacere e io non riuscivo a smettere di ridere.